Dipingo perché è bello per me sporcarmi le mani e usarle sulla tela, è bello il processo creativo e poi il quadro lo vedete voi. Io ce l'ho nella mente, per me sono tutti bellissimi, però è quello io mi voglio divertire, quando dipingo mi diverto e questa è la cosa bella della mia pittura per me. Un giorno per caso, o forse no, ho usato le mani, ho iniziato a usare le mani e da lì mi si è aperto un mondo. E ancora oggi uso le mani, perché la mano riesce davvero ad avere un contatto con la tela, che io riesco ormai a muovermi all'interno della tela, riescono a farmi capire dal rumore e dalla sensazione tattile se c'è colore, se non c'è colore. La cifra stilistica della mia pittura è proprio quella del gesto. Ciao! Ciao! I limiti non sono dei confini imbaricabili, ma è un qualcosa che si può sempre spostare appena appena più lontano. Io almeno la vedo in questo modo. E poi la mente è formidabile, ti permette davvero di superare tutti quei limiti che invece il corpo pone, quindi fatetelo vedere. All'immaginazione, alla fantasia non c'è davvero nessun limite. All'immaginazione, alla sperazione che si è andata. Grazie a tutti.